Ciao amici sono LOX, bentornati sui fatti dell'opinione di LOX, il canale per i veri malati di sport. Torniamo a parlare di pallacanestro, oggi c'è stata la sfida al verdice, la sfida più importante del campionato, ovvero quella che probabilmente sarà anche la finale di campionato tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Sono stato al forum, sono appena ritornato a casa dal forum, avevo fatto anche un video, è proprio finita la partita con lo sfondo del forum, ma purtroppo questi dannati microfoni mi tradiscono piuttosto spesso e non si sente assolutamente nulla, rifacciamo da casa nella nostra consueta e abituale location. È stata una partita molto particolare, ha vinto l'Olimpia, ha vinto per 102,99 ai tempi supplementari, dopo un tempo supplementare, al termine di una partita che come dicevamo mi ha lasciato abbastanza perplesso per alcuni aspetti, sicuramente da un punto di vista estetico si è trattato di una partita molto godibile, da un certo punto di vista tanti punti realizzati, poche però poca la difesa, direi da parte di entrambe le formazioni se pensiamo che Milano ha tirato con il 49% dal campo, Brugna addirittura con il 54% dal campo. Milano non ha giocato con la partita giocata con un'infinità di assenze da ambo i lati a causa del covid e degli infortuni, per cui partita da prendere non con le molle di più, con le pinze, no ancora di più, sicuramente non credo che sarà una partita che sulla strada di quello che sarà eventualmente la sfida Scudetto di giugno di fine campionato abbia dato più di tante informazioni, però si tratta comunque di una partita che evidentemente è meglio perdere che vincere, le due squadre ci hanno messo del loro, se la sono giocata in maniera come detto piuttosto godibile, sicuramente non puntando più di tanto alla difesa, l'Olimpia è stato stranissimo vedere un'Olimpia a maglie così larghe in difesa, perché per la Virtus è abbastanza una caratteristica, la Virtus è incredibilmente spettacolare in avanti grazie anche al talento individuale di giocatori come Teodosic piuttosto che Berinelli che hanno giocato due partite eccezionali, specialmente Berinelli, ma in difesa veramente alcuni canestri sono stati proprio presi con l'abrodo assoluto, però come se fosse la partita mi ha ricordato due cose, uno le partite della regular season NBA, ovvero dove per tre periodi e qualcosa in più si giochicchia, si tira, si segna, parziali che vanno e vengono e poi negli ultimi minuti ci si gioca la partita fino in fondo, quello che è successo oggi in questa partita, così come mi ha ricordato in alcuni momenti però anche il bellissimo basket anni 80-90 quando la pallacanestro era tutta un'altra cosa e non solo per una nostalgia personale di quando si era più giovani, ma credo fosse un po' più divertente da vedere della pallacanestro che c'è oggi. Comunque, gara come detto sicuramente da un punto di vista godibile piacevolissima, da un punto di vista emozionale lo è stato perché come detto parziali che vanno e vengono, Armani che parte bene va 8-0 subito, Vologna quando inserisce dalla panchina soprattutto l'ottimo Bellinelli ma anche un ispirato Jaité si riporta in partita, grandi stoppati di Heinz, un'intensità iniziale di Milano doppia, 24-21 il primo parziale con, e sarà molto importante per definire il punteggio finale, una tripa di rimbalzo di Hall proprio sullo scadere. Nel secondo quarto ancora piuttosto equilibrio quando negli ultimi minuti Milano prende quello che sarà il vargine che si terrà poi per tutta la partita, ovvero 9 punti di vantaggio con cui va la pausa, l'intervallo lungo 54-45 che nascono da tre triple tirate dall'angolo dove Milano penso sia la squadra più mortifera d'Europa, una di Grant, una di De Ciacio e una di Melli e Milano allunga e si porta in vantaggio. Nel secondo tempo parte bene Teodosic che si porta sulle spalle Bologna, la partita straccheggia, Milano allunga fino a più 13, Bologna si riavvicina fino a più 6, Grant MVP assoluto, una gran prestazione per un giocatore molto discusso fino ad ora e la sua azione più bella della partita è quando a 6.18 del quarto periodo recupera un pallone e va a schiacciare, time out di Scariolo sul 84-71, ma lì un po' Milano si disunisce, rallenta fin troppo il ritmo, sbaglia qualche tiro di troppo, un po' Teodosic e soprattutto un clamoroso Melinelli autore di 34 punti salgono assolutamente, si mettono assolutamente in mostra, Bologna recupera punto su punto con certi errori arbitrali e anche un arbitraggio veramente osceno in questa partita, devo dire la terna Begnis per Ciavalle Baldini, mi convinceva poco come disignazione, mi ha convinto ancora di meno in campo, è stato un autentico disastro, l'arbitraggio pieno di inutili protagonismi, almeno 6 volte utilizzato l'instant replay anche per ragioni assolutamente banali che tra l'altro nel tempo supplementare credo anche in maniera errata, perché l'ultima rimessa decisiva a favore dell'Armani credo che invece fosse un tocco a favore di Bologna anche perché era esattamente nella posizione dove ero io come a vedere la partita, per cui mi è sembrato evidente che Berlinelli abbia tirato la palla contro il giocatore di Milano, comunque l'ha rimessa poi rimasta a Milano e ora segnato, comunque stiamo parlando del quarto periodo, c'è stato questo a rimonta di Bologna che ha trovato poi la bomba di Berlinelli dopo che Grant si era sbagliato due tiri liberi, 95 pari, andiamo ai supplementari dove si difende un po' di più, il supplementare finisce solo 7-4 che rispetto al resto della partita è un punteggio veramente molto molto basso, protagonista diventa Hall, Grant si era sbagliato questi due tiri liberi in finale di quarto periodo e che lo avrebbero consacrato MVP, l'NVP finale della partita direi che è Hall che gioca un clamoroso overtime e soprattutto fa quell'uno contro uno decisiva 0-38 dalla fine con cui mette questi tre punti di vantaggio, peraltro poi nel finale Bologna perde un pallone recuperato da Melli, Milano Ciaccio fa una tripla da centrocampo, Bologna un'ultima chance, il tiro di Wims esce, gira sul ferro ed esce, dalla mia posizione anche in questo caso ero meno vicino, secondo me c'è un contatto un po' su questa conclusione di Wims, comunque anche in questo caso gli arbitri non ritengono di dover intervenire e la partita finisce, come detto quindi note per l'Olimpia la scoperta di Grant, una gran prestazione di Grant, una partita 20 punti per lui, una gran partita di Hall, una grande partita del Ciaccio, Ciaccio e Ainz decisivi, esperienza al servizio della squadra, grandi, una buonissima partita anche di Melli e direi quindi Benti, il Benti ha giocato piuttosto bene, tante buone risposte per Milano, per la Virtus per i Nelli 34 sugli scudi, le doppie doppie di JT e Teodosic, 18 più 10 per JT con i rimbalzi, 18 più 10 con gli assist per Teodosic e Wims, Wims è rimasto in ombra per tanto tempo, è venuto fuori soltanto nel finale, però la Virtus adesso a dire di quello che si è già detto sulle assenze e su quanto possa contare questa partita, credo che la Virtus debba assolutamente sistemare la difesa, è una squadra fantastica in attacco ma difendendo così non credo che si possano avere chance di andare molto più avanti di quello che si sta andando. Da tre punti Milano 44%, Bologna addirittura il 48%, sciagurato il 50% è libero di Milano 9 su 18, rimbalzi 36-37 ma 14 rimbalzi offensivi di Milano, gli assist in equilibrio 26-28, le palle perse 11 di Milano, 18 addirittura per quanto riguarda Bologna. Detto di questo osceno arbitraggio, la Pagela è 4 e mezzo a Begnis, 4 a Baldini e 5 a Perciavalle. Tecnico dato a Messina con un tiro in corso da parte di Bologna quando Messina aveva fatto delle scene assurde nel secondo quarto dopo un fallo pazzesco e non fischiato a favore di Terzeschi, lì non si era fatto niente, Benis un tecnico a Teodosic in chiusura di secondo quarto in una delle ultime azioni per una protesta vis-à-vis, decisioni di Baldini alcune assolutamente assurde, uso spropositato e inutile degli instant replay, una partita persa di controllo subito, una partita peraltro che aveva una, essendo molto poco fisica, non mi è sembrata neanche così particolarmente complessa da arbitrale, quindi credo veramente una brutta prestazione arbitrale, non c'è voto alla telecronica perché la partita l'ho vista direttamente dal vivo, grazie ragazzi, like per il video, iscrivetevi al canale, vi aspetto e campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti, intanto vi saluto, alla prossima, ciao a tutti e un bacio da Lox.